L'antibiotico resistenza è un'emergenza sanitaria nazionale e internazionale e il suo impatto sul sistema sanitario è già una realtà. Tra pochi anni infatti si rischia di rendere gli antibiotici sempre meno efficaci e di accrescere sempre più la nostra vulnerabilità alle infezioni batteriche. Questo è il tema del convegno tenutosi questa mattina all'Ordine dei Medici a cui hanno partecipato esperti di livello nazionale. L'antibiotico resistenza se ne torna a parlare all'Ordine dei Medici di Foggia, ecco un tema che ritorna sostanzialmente, ecco perché l'importanza di riparlarne? L'importanza di riparlarne è quella di temere per il futuro, non tanto lontano, parliamo del 2050, la possibilità che ci siano 100 milioni di persone decedute a causa dell'antibiotico resistenza. Quindi il nostro lavoro insieme con tutti i professionisti delle professioni sanitarie, veterinari, farmacisti, è quello di creare una rete affinché si crei una maggiore e migliore coscienza su un utilizzo degli antibiotici che sia oculato, che sia appropriato e a questo motivo credo che sia importantissimo che insieme con le nostre autorità sanitarie organizziamo una campagna di sensibilizzazione della popolazione, di educazione della popolazione al corretto utilizzo degli antibiotici.